Buon pomeriggio dalla redazione di Forens Multimedia in studio Cesare Martignan. In A1 si registrano code per veicolo fermo in avaria tra l'inizio complanare in pruneta e incisa reggello in direzione Roma. Segnalato sempre in direzione sud, coda per traffico intenso tra Aglio e Calenzano. Ricordiamo che l'area di servizio Migliarino Sud è chiusa in direzione Firenze fino al termine dei lavori programmati fino al 22 agosto. Per la circolazione ferroviaria a causa di una riprogrammazione del servizio il treno regionale 11826 Lucca-Viareggio oggi è stato cancellato. I viaggiatori possono utilizzare il treno regionale 9522 Montecatini-Viareggio confermata subiettiva a Nozano e Massarosa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie! 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 Grazie!